Da Siracusa approdano al teatro romano dell'antica Tusculum tre delle più belle tragedie greche, le supplici di Eschilo, la medea di Euripide con Elisabetta Pozzi e l'edipo a colono di Sofocle interpretato da Giorgio Albertazzi. Tusculo è un luogo straordinario, l'unico modo che dà un senso di immortalità alla nostra breve vita sono le pietre. Quelle di Tusculo ci danno l'impressione che quelle pietre siano vive, per me questo esercita un fascino straordinario, ma è sempre stato così. Se la leggenda vuole che Tusculum sia stata fondata dal figlio di Ulisse della Maga Circe, la storia invece sostiene che furono i Pelasgi, il popolo che ha abitato la Grecia prima di quello ellenico, a fondarla. Dal 10 al 13 agosto, in ogni caso, Frascati onora le sue origini con una mini stagione teatrale di spessore, sponsorizzata dalla provincia di Roma e presentata a Palazzo Valentini.